il 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 e allora quando si lava si distringe no? quello più si lava e più si arrotola e devo andare a tomar panche e... io c'è un caffè non ho fatto un letto, un pipà non ho fatto un caffè ma non ho fatto un caffè non ho fatto un caffè ma stai stanno arrivando invece... mi c'è freddo fuori, fa freddo si lunare te l'ho detto, fa freddo fa freddo e basta fa freddo, fa freddo e questo Natale si è presentato come comando di Dio quindi con tutti i settimane si è presentato il nostro canale il nostro canale non lo fa è un bel tutto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.